Ben ritrovati con il nostro aggiornamento situazione di maltempo che continua, pensate al sud del ciclone potrebbe rimanere anche per una settimana, la prossima settimana poi sarà decisamente più fredda. Intanto apriamo proprio con la carta delle temperature che conferma una situazione già prettamente autunnale ma guardate questo freddo presente al nord del Mar Nero che gradualmente si sposta verso ovest, Balcani e poi potrebbe raggiungere l'Italia nel corso della prossima settimana con un crollo sensibile. Intanto le precipitazioni sono importanti sulla Romagna, sulle Marche ma anche sul basso Tirreno, dunque attenzione poi il weekend che vede il maltempo sulla fascia adriatica il venerdì, il sabato in parziale attenuazione e poi il ritorno di precipitazioni con il ciclone che staziona sul Mediterraneo, vedete anche intense tra Molise ed Abruzzo. Quindi una situazione purtroppo perturbata soprattutto al centro-sud mentre migliora al nord con ampie schiarite, le temperature diffusamente sotto i 20 gradi addirittura anche 14 gradi che poi diventano 13 per Perugia, vedete il maltempo del weekend sulle regioni adriatiche e sul meridione, altrove ampi momenti soleggiati poi nella giornata di domenica tornano delle precipitazioni purtroppo anche sulla capitale. Queste le nostre informazioni meteorologiche, vi auguro comunque un ottimo proseguimento. Grazie per la visione!